Un commento Roberto, un commento! E' viva l'Italia! E basta? E anche voi riuscire! Non siamo alla frutta, ormai siamo al dolce! Dai, ci sta 3.000 persone! Chietta! 3.000 persone! Altro che i convegni del PD là, come si chiama? I congressi del PD? Lo smontano il PD! Una dichiarazione, Salvatore! Una dichiarazione a freddo? Sì, a freddo, a freddo! Gelato! Ma è emozionante, dà brividi sulla pelle! Tu ti dovessi di Napoli? Sì! Anche Salvatore da Napoli è qui a Firenze per le liste civiche! Prevede un futuro con queste liste civiche, un qualcosa che si concretiserà? Un miglioramento del paese? Ma soprattutto è importante dare fastidio ai partiti maggiori dalle! Bene! Tutto esaurito! Salvatore da Napoli am飞are da Napoli! Ma questo è un Hallora! Deveva da Napoli! Po Grazie a tutti!